Discutendo di questioni di migrazioni viene affrontato ogni tanto il tema del conflitto di coscienza e ci si chiede se in nome di un conflitto di coscienza, in nome del primato della coscienza, sia possibile in taluni casi violare le leggi commettendo anche dei reati. La risposta è senz'altro di sì, tuttavia il conflitto di coscienza non può essere qualsiasi astratto furore del nostro animo, ma deve essere in qualche modo oggettivato, comprensibile, razionalizzabile. Per esempio trovandosi ai confini svizzeri durante la Seconda Guerra Mondiale quando lo Stato per comprensibili o meno ragioni di Stato non poteva accogliere tutti coloro che scappavano dalla Germania e dall'Italia, era senz'altro possibile violare le leggi e fare entrare dei rifugiati, dei profughi e molti lo hanno anche fatto e per fortuna. Più vicino a noi nel tempo, al momento della crisi cilena, anche lì, quando nell'Europa e nella Svizzera avevano un sistema di accoglienza codificato, poteva essere giustificato violare le leggi per accogliere dei profughi e si ricorda in particolare il caso del pastore Rivuar che subì un processo e fu anche assolto per questi motivi. Oggi tuttavia la situazione è molto diversa perché avendo l'Europa e la Svizzera messo in piedi un sistema di accoglienza dei profughi molto complicato e complesso che al suo interno presenta non poche difficoltà ma permette comunque di affermare che una volta che un profugo ha messo piede sul territorio europeo sia in sicurezza e quindi invocare un conflitto di coscienza per farlo passare contro le previsioni dei vari regolamenti esistenti per esempio dall'Italia alla Svizzera o dall'Italia alla Germania o anche dalla Svizzera alla Germania non rientra certamente tra i casi tutelati dal primato della coscienza. Diverso sarebbe se uno si trovasse al confine tra la Turchia e la Siria dove il passaggio della frontiera rappresenta il passaggio tra l'insicurezza e la sicurezza spesso tra il pericolo di vita e la possibilità di vivere quantomeno in sicurezza o anche in paesi più vicini potrebbe porsi questo problema. Semmai il primato della coscienza potrebbe essere invocato, qualche volta viene fatto anche a ragione, al momento di certe espulsioni. La Svizzera ha un sistema di verifica delle situazioni nei paesi verso cui rinvia i profughi abbastanza perfezionato ma non scevrono errori, insomma relativamente spesso ci siamo trovati confrontati con casi di gente che è rinviata nel suo paese, è stata poi vittima di angherie di vario tipo, incarcerata, condannata, qualche volta anche condannata a morte e quindi in casi del genere, sempre caso per caso, naturalmente il primato della coscienza potrebbe essere invocato proprio perché questa situazione richiede un minimo di oggettivazione, un minimo di razionalizzazione dei due poli del problema.